All'interno del ciclo I Magnifici Dieci guida al romanzo italiano del primo novecento, la conversazione di quest'oggi è riservata ad un romanzo breve ma di straordinario fascino, le due zittelle di Tommaso Landolfi. Abbiamo preso la consuetudine nei nostri incontri di iniziarli con una sorta di ricostruzione sia pure estremamente sommaria e concisa della formazione culturale, delle esperienze di vita dell'autore sino alla data almeno dell'opera che desideriamo trattare. Nel caso di Landolfi questo tipo di discorso è molto difficile. Era nato a Pico che allora era in provincia di Caserta e oggi è come tutti sapete in provincia di Frosinone nell'agosto 1908 da una famiglia di antica prosappia locale. Era stato orfano della madre in età molto tenera con rapporti intensi ma a quel poco che si sa anche difficili con la figura materna. Si era trasferito piuttosto giovane a Firenze e qui aveva intrapreso l'università presso la facoltà di lettere della città e si era laureato in letteratura russa a 24 anni nel 1932. Quelle che vedrete tra l'altro oggi sono alcune delle rarissime immagini e questa che vi stiamo mostrando è davvero di estrema rarità di Tommaso Landolfi, uno scrittore che aveva fatto della propria ritrosia e della propria riservatezza un'arma di comportamento ferrea e non venne mai meno al principio di non farsi fotografare, non rilasciare interviste, non avere diretta partecipazione a iniziative cosiddette mondane della letteratura come dibattiti, convegni, partecipazioni pubbliche a questo, a quel cenacolo. A Firenze è fuori di dubbio che Landolfi sia legato al gruppo cosiddetto delle giubbe rosse, dal caffè omonimo nel centro della città in cui si era solita adunarsi la generazione ermetica, i poeti che si distingueranno sotto la chiave della scuola ermetica da Mario Luzzi a Bigongiari a Parronchi ma anche ad altri letterati che prestavano la loro attività professionale nella città come Eugenio Montale, direttore del gabinetto VSE, come per un breve periodo anche Carlo Emilio Gadda, l'ingegnere di Milano che tuttavia a Firenze fece un soggiorno abbastanza prolungato. Ma anche in queste forme e anche coi critici importanti, molto fini della generazione ermetica come Carlo Bo, come Leone Traverso, come Oreste Macri, Landolfi intrattenne sempre rapporti di schietta amicizia ma sempre defilandosi dal resto del gruppo e le sue letture non erano certo quelle che in quel momento gli ermetici portavano alte, gli ermetici come tutti sapete guardavano alla poesia simbolista e decadente francese come a quella che aveva aperto una nuova prospettiva a quella che sarebbe stata la poesia futura da Baudelaire a Mallarmé, da Rimbaud a Verlaine. Landolfi spaziava invece e non soltanto per motivi di tesi di laurea in quella letteratura russa in cui riconosceva alcuni di quelli che sarebbero poi stati i suoi maestri e innanzitutto il grande scrittore romantico Pushkin di cui tradusse stupendamente, manovrava il russo come una seconda lingua, tutti i poemi e tutte le liriche, edizione di cui potete disporre attraverso una recente ristampa del milanese editore Adelphi che tra parentesi si sta accingendo a ristampare tutta l'opera di questo grande solitario delle lettere novecentesche italiane. Ma forse il maestro, tra virgolette, che più influenzò Landolfi fu Nicolai Gogol. Anche di Gogol Landolfi aveva magnificamente tradotto i cosiddetti racconti di Pietroburgo e sono la raccolta sotto la quale stanno i capolavori del narrar breve di questo straordinario scrittore come Il Naso, storia di un naso che si stacca dalla persona che lo possiede e diventa un individuo autonomo. Il Cappotto, storia delle tribolazioni di un funzionario pubblico che si mette in testa di avere mortalmente offeso un proprio superiore starnutendogli in testa durante una prima teatrale e il ritratto, forse la vetta davvero della produzione breve di Gogol, storia di un ritratto che passa di mano in mano da un antiquario ad un pittore ad un altro pittore ancora, seminando l'infelicità in tutti quelli che lo posseggono. Ecco Gogol, la visione grottesca della vita di Gogol per cui un naso può diventare un uomo, la visione disperata dell'esistenza di Gogol esemplificata soprattutto in quel grande romanzo non a caso incompiuto che fu Le anime morte queste sono forse le vere grandi matrici della formazione letteraria molto particolare di Landolfi dire Pushkin vuol dire la cultura romantica, dire Gogol vuol dire il gusto per tutto ciò che è bizzarro, per tutto ciò che è fantastico, per tutto ciò che non è incasellabile nelle categorie della razionalità. Ecco ancora una rara foto di Landolfi a caso proprio con uno scrittore siciliano di cui abbiamo anche parlato, Vitaliano Brancati evidentemente in un incontro romano. Roma fu qui un ritratto magnifico della maturità di questo scrittore, il solo scrittore contemporaneo ha scritto con quella finezza che gli era tipica Gianfranco Contini che abbia dedicato una minuziosa cura degna di un dandy romantico quale un Byron o un Baudelaire alla costruzione del proprio personaggio, un personaggio notturno di eccezionalità stravagante, dissipatore e inveterato giocatore, un personaggio che viene introdotto e anzi ostentato costantemente nella sua opera, particolarmente nelle pagine più recenti. Giocatore avete sentito e come sapete se dobbiamo rimanere all'interno della letteratura russa lo scrittore giocatore per antonomasia fu come tutti sapete Fyodor Dostoevsky e Dostoevsky dedicò addirittura a questo vizio che lo torturava, a questa debolezza se non vogliamo parlare di vizio che lo torturava e lo portava a crisi economiche disperanti, addirittura un romanzo che porta proprio come titolo Il Giocatore, ambientato in una immaginaria Carlottensburg dove si adunano appunto dei malati del gioco d'azzardo nel locale Casinò. Concepisco, scrisse da parte sua Landolfi, ormai l'esistenza sotto l'aspetto del gioco ed essa mi parrebbe vuota più di quanto non mi paia, ove questo mi mancasse. Non è cedere a un pettegolezzo dire che Landolfi passò periodi abbastanza consistenti della sua esistenza in località non lontano dalle quali si ergeva un casino per poter sfogare questa sua impulso irresistibile. Ma ripeto, tutti quelli che lo hanno avvicinato sottolineano che era per antonomasia il letterato altro dagli altri, diverso dagli altri, estraneo dagli altri, con le sue avventure di cavaliere da altri tempi, talora perfettamente acclimatato e tal'altra, tra virgolette, in gran dispitto, con le sue battute glaciali, con tante maschere da potersi levare e rimettere, un poco diabolico, misteriosissimo, da sparire d'un tratto, dal non dare notizie di sé, da passare da un escogitato splendore ad una amplificata decadenza. Lo splendore e la decadenza evidentemente nel diarista di cui ho letto un brano e si tratta di Leone Piccioni volevano dire splendore economico, cioè momenti di grande ricchezza economica, a una decadenza, cioè a momenti di ristrettezza economica, forse anche per quella passione di cui sopra. Sappiamo, ripeto ancora una volta, poco della sua vita privata, per questa ritrosia a dichiararsi. Frequenti ritorni a piccola, casa a vita, come egli la chiamava, dove il padre aveva ancora a lungo vissuto e dove era solito spesso ritirarsi per scrivere i propri libri, un affetto di grande intensità per la giovane moglie, la Major, così la connota in scritti di forte sapore autobiografico, e i due figli, la Minor e il Minimus, che evidentemente avevano la capacità di sommuovere dal profondo i suoi affetti. Roma, Roma, meta di frequenti visite, e Roma come città nelle cui biblioteche probabilmente Landolfi trovava letture di cui soddisfarsi. Abbiamo detto Pushkin, quindi un grande romantico, abbiamo detto Gogol, un grande, il capofila della letteratura del grottesco e del fantastico, ma anche i francesi, Landolfi conosceva magnificamente il francese e tradusse anche dal francese, scelti accuratamente tra i modi, quello che nella lingua vuol dire gli scrittori maledetti. Gérard de Nerval, il grande romantico che finisce, muore giovanissimo in un vicolo del quartiere parigino di Saint-Germain-des-Prés, in una notte di gelo atroce ed è una morte che è probabilmente un volontario suicidio. Barbeidore Vigli, l'autore, anche egli maledetto, di una raccolta di racconti che fin dal titolo si presenta da sé, Le Diabolique, i Diabolici. Quanto agli italiani, fermo amore per d'annunzio, amato e odiato per la verità al tempo stesso, ma di cui Landolfi riconosce il grande magistero stilistico, sia nei romanzi sia in particolare nella grandi raccolta di poesia, e Manzoni, di cui egli amava particolarmente non tanto, come dire, la stesura finale del capolavoro, cioè quelli che per noi sono a tutti gli effetti i promessi sposi, ma le due grandi stesure antecedenti, cioè gli sposi promessi e a ritroso ancora Fermo e Lucia. Quello che vi abbiamo detto non è certo tutto, ma è molto di quello che si può dire all'interno del poco che questo grandissimo prosatore e narratore era disposto di sé a rivelare. Landolfi esordisce nel 1937, ripeto è dell'otto, con sette racconti, uno più affascinante dell'altro, raccolti sotto il titolo di impronta galileiana, come vedete si va sempre all'indietro, alla grande tradizione dello stile italiano alto, dialogo dei massimi sistemi, che come sapete è il titolo di un'opera di Galileo Galilei. Una seconda opera è per la prima volta il passaggio dalla raccolta di racconti al romanzo breve, che si intitola La pietra lunare, vedete qui Firenze che come ho detto è la città non solo di maggior contatto con gli altri scrittori della coevi, ma anche la città in cui talvolta esplicitamente Landolfi ambienta i suoi romanzi e racconti. La pietra lunare che vede la luce nel 1939, racconto lungo, romanzo breve, è una storia d'amore, ma di che tipo? È una storia d'amore, la dico in due righe per arrivare poi al nostro romanzo di quest'oggi, che coinvolge il protagonista e guru, una donna capra, dotata di straordinari poteri ed è naturalmente, come potete immaginare, una storia d'amore tra un uomo, un giovane uomo e una capra, una donna capra, un racconto tutto in bilico tra realtà e sogno, anzi un lungo incubo onirico nel corso del quale tra l'altro il giovane protagonista, innamorato perdutamente della sua guru, ha anche l'occasione di incontrare altri esteri misteriosi. E poi un terzo racconto lungo, un romanzo breve, Landolfi non scrisse mai i libri di grande ampiezza, proprio perché probabilmente si rendeva conto che la sua prosa così aristocratica, così costruita, così raffinata, e tra breve ne sentirete qualche campione, non riusciva a occupare, a dilatarsi in uno spazio ampio della narrazione. Il terzo romanzo breve, anche qui un titolo assai inquietante, Il Mar delle Blatte del 1939, dove fa la comparsa naturalmente una tribù addirittura, come il titolo dice, di scarafaggi che, come dire, riescono addirittura a riempire di sé l'intero paesaggio. Il romanzo di cui vi vogliamo parlare quest'oggi si intitola, l'ho già detto, Le due zittelle e vede la luce nel 1946, puntate su una rivista mensile che si pubblicava a Firenze e che era diretta da quello che sarebbe stato poi il successore di Eugenio Montale alla direzione del gabinetto Viesseux, cioè Alessandro Bonsanti, e la rivista si chiamava Il Mondo. È il titolo poi che Mario Pannunzio, allievo di Leo Longanesi, suo omnibus, riprese quando fondò a Roma il ben noto e bellissimo settimanale politico-culturale di questo titolo. Che cosa racconta Le due zittelle? Ripeto, non ambientato a Firenze, i romanzi e i racconti di Landolfi non hanno mai un'ambientazione connotata e tantomeno realistica, ma certo in una zona che ha qualcosa della provincia toscana, forse in una cittadina o in un paese limitrofo a questo che era in quel momento, negli anni 30 e 40, davvero una delle capitali culturali non solo d'Italia ma anche d'Europa. Le due zittelle, e dico subito che il titolo ha la T doppia con forzatura voluta dell'italiano corrente che vorrebbe zittelle, da l'antico latino cita, poi zita, cioè ragazzina, ragazzina adulta in vari anche dialetti italiani. Le due zittelle si chiamano Lilla e Nena e vivono appartate, ripeto, in questa imprecisata cittadina, dopo la morte della terribile madre baffuta e di fattezze certo non attraenti, alle prese con le prodezze di una scimmia che gli è stata donata da un fratello, come dire, ormai scomparso. Tant'è che spesso e volentieri le due sorelle sulla sessantina evocano questo fratello che ha lasciato a loro questa sorta di legato. Nel testo, è un particolare anche questo stilistico e lessicale curioso, la scimmia, che come sapete si scrive con due M, invece da Landolfi è scritta con un M sola, quasi a compensare la doppia T delle zittelle del titolo. Questa scimmia, portata loro, ripeto, da un fratello viaggiatore reduce da viaggi esotici e poi morto e venerata dalle due sorelle quasi come una reliquia di quel congiunto. Fatto sta che alle due zittelle, Lilla e Nena, incomincia un bel giorno a giungere la protesta delle monache di un convento attiguo alla loro casa che lamentano certe intrusioni di uno sgradito ospite notturno nella loro cappella del convento e la conseguente sparizione di un certo numero di ostie consacrate dall'altare. Ma sentiamo intanto come la scimmia, che si chiama Tombo, è un piccolo cercopiteco, si comporta. In generale, lasciata libera, Tombo si comportava assai più ragionevolmente che non è meraviglia. Le zittelle avevano pertanto preso l'abitudine di darle talvolta la via, si intende in una stanza chiusa. Essa allora poteva arrampicarsi sui mobili, il che eseguiva con estrema delicatezza e senza rompere mai nulla, darsi da fare a suo grado e smetteva quegli inconsulti rumori. Non è però che anche in queste condizioni cessasse dal manifestare con tutto un poco il suo contegno una certa prepotenza. In definitiva, essa era, sebbene un uco, il maschio di casa, viziato inoltre adonta del suo lamentevole genere di vita. Quando era libera e dopo essersi sfrenata a sua posta, i suoi occhietti cominciavano infantilmente a chiudersi, venivano a rifugiarsi in grembo a una delle due donne, di solito a Lilla, o meglio se Costei era a giacere, ad applicarsi sul suo petto che abbrancava con tutte e quattro le estremità in atteggiamento di possesso. Queste qualità virili, la scimmia venne, è vero, sviluppando soprattutto dopo la morte di Donna Marietta, la mustacchiuta e barbuta vecchia le incuteva infatti un'associazione perplessa e forse invida che rasentava il terrore. Ma conciò mi avvedo ad esser caduto nel vizio più sudeprecato di attribuire a un brutto, la scimmia, attitudini e sentimenti umani, per cui fo qui punto. Dunque una scimmia, Tombo, una scimmia unuco, ancorché maschio, che tuttavia viene lasciata libera a tratti in una stanza chiusa dalle zitelle e che tuttavia si comporta in qualche modo come un maschio umano. Normalmente Tombo è legata in gabbia, legata addirittura ad un pettorale, un marchigegno che le due zittelle hanno fatto costruire per lei e naturalmente proprio per questo teoricamente incapace di qualunque gesto fuori dalla gabbia, se non negli rari momenti di libertà di cui abbiamo letto. Proprio per questo, a quell'annuncio delle monache dell'antiguo convento, le due zitelle sulle prime sono incredule. La nostra scimmia è chiusa, è legata ad una catenella, ma poiché il fatto e naturalmente le lamentele si ripetono, decidono un appostamento notturno. Dopo alcune notti, una delle due sorelle, che ha avuto il coraggio di presentarsi al convento, assiste, prima ancora di poter andare al di là e vedere il peggio, alle macchinazioni della scimmia per liberarsi dalla catena e uscire dalla gabbia, alla sua sortita dalla gabbia e al suo rientro. I sospetti allora da parte delle due zitelle si fanno più concreti. Così viene deciso in una terza notte un vero e proprio appostamento in cappella. E qui la scimmia è sorpresa sul fatto. Una delle due zittelle, l'ho preciso per il maggior chiarimento del brano, è in compagnia di una monachina letteralmente impietrata dal terrore. Tombo introdusse dapprima tra i ferri il lunghissimo braccio che già conosciamo e lo agitò un poco quasi tentasse l'aria. Poi entrò di spalle e dall'architrave misurò la distanza che lo separava dal bacino di una quassantiera ergendosi a dritta della porta e vuota, sul cui orlo si slanciò con preciso volo. Ma poiché il suo contegno in simile circostante ci è già pressa poco noto, non lo seguiremo partitamente nelle sue ulteriori evoluzioni né ci fermeremo a considerare ogni suo attuccio, fino a quando, attraversata velocemente a ragno la cappella per tutta la sua lunghezza, non si sarà tombo inerpicato sull'altare. Ora Nena se lo vedeva lì davanti, a pochi passi si può dire, nella piena luce dei due ceri. Ella e la monaca si erano impietrate e rattenevano il fiato e la cosa orribile ebbe principio. Tombo si accostò con decisione al ciborio e l'aprì bruscamente sbatacchiando il portello, restato un attimo a guardar dentro di traverso come una gallina, vi affondò il solito braccio e ne trasse per due volte una manata di ostie consacrate che rapidamente divorò. Qui la monacella, non reggendo alla vista del sacrilegio, fece un gesto e stringse convulsa il braccio di Nena. È vero dunque. Tombo ogni notte si libera dalla catenella, esce dalla gabbia, si reca nell'antiguo convento e divora le ostie, ma quello che segue è ancora peggio perché si imita goffamente un prete nell'atto di dire messa e infine supremo sfregio si lascia andare ad orinare sull'altare. Le zittelle sgomente, inorridite, indicano un conciliabolo, un vero e proprio processo per decidere le sorti del loro animale sacrilego. Vi partecipano due distinte figure di sacerdoti e a uomini di chiesa che si deve chiedere che cosa fare, Monsignor Tostini, un prelato untuoso, eligio all'ortodossia, anche se si ostina a ripetere che gli animali vanno messi sullo stesso piano degli uomini, è un giovane prete, un giovane prete eterodosso, padre Alessio, che naturalmente si slancia in una furente invettiva contro quella che egli ritiene la più grave stortura della dottrina cattolica, il considerare l'animale un essere inferiore all'uomo, ma è poi costretto ad abbandonare la casa delle zittelle e dunque la difesa della scimmia, tanto il suo avversario lo minaccia, discomunica e tanto soprattutto le due zittelle sono da lui scandalizzate. Tombo, e lo avrete già inteso, viene così condannato a morte come succedeva di un essere umano ai tempi della inquisizione medievale quando con prove provate e tra le prove viene giustamente evocata nel dibattito la tortura, veniva confermato un suo esecrando e imperdonabile sacrilegio. È una pagina in cui credo potrete avvertire tutta la grandezza di scrittore di Landolfi, quella che sto per accenni per leggervi quella appunto dell'omicidio di Tombo. E neppur fu cosa ad un momento e Tombo sentì fin troppo di morire. Nena, reggendo la sua arma dietro la schiena, si era avvicinata e anche lei lo vezzeggiava e lo accarezzava con la mano libera. Poi si fece un rapido segno di croce e lo accarezzò ancora tenendogli in paritempo ferme le gambe ed un tratto vibrò il colpo. Ma come si poteva del resto immaginare lo spillone non seguì la via voluta, esso penetrò un poco più in alto o un poco più in basso del cuore o incontrò una costola. convenne ripetere il colpo una, due, tre volte, si era fatto un silenzio di tomba che fu lacerato da un grido isterico di Lilla una frase urlata precipitosamente, quasi fosse un'unica parola, mi pare di uccidere nostro fratello! Zitta! Stupida! replicò Nena a denti stretti e fu la prima e l'ultima volta che disse una cosa simile alla sorella. Infine Tombo, che si era dibattuto furiosamente, si spense. Si spensero i suoi occhi che all'ultimo istante esprimevano ormai solo una sgomenta meraviglia. Le ferite non davano sangue ma un sottile filo di sangue colava dall'angolo della bocca. Tombo ha avuto la sua sentenza di morte maldestramente eseguita, come avete sentito da Nena, con uno spillone. E con questa scena efferata e crudele, eppure intrisa di una grande pietà, si chiude il racconto. Quale poetica dell'esistenza, quale visione della vita e quale possibilità di tradurla in letteratura, sta dietro questo romanzo breve, a mio modesto avviso uno dei punti più alti dell'arte narrativa di Landolfi e anche uno dei punti più alti della prosa del primo novecento. Intanto una elementare constatazione. È molto difficile distinguere nella vita dei nostri simili e quindi anche nella nostra vita ciò che è verissimile e ciò che non lo è. È verissimile vivere con una scimmia da parte di due zittelle sole abbandonate dal destino e dall'esistenza? Forse sì, forse no. È verissimile concedere a questa scimmia degli attimi di vita umana come quando ci si lascia abbracciare da essa e saltellare sul proprio grembo? Forse sì, forse no. Tutte queste incertezze che cerco di esprimere con un elementare avverbio denotano nella visione dell'universo e dell'esistenza di Landolfi che non c'è regola per giudicare gli altri e di conseguenza noi stessi. Quanta infelicità si annidi nel cuore umano è qualcosa di davvero imprescrutabile e le scelte di comportamento che ciascuno di noi decide di fare all'interno della propria esistenza sono tutte estremamente discutibili ma tutte allo stesso titolo, ugualmente accettabili. Non possiamo ergerci a giudici dei nostri simili perché nessuno può giudicare noi stessi. Questo è il primo punto. Come vedete un tema, è un'assunzione di principio che diventa un tema letterario di grande, larga umanità. Landolfi, scrittore, come ho cercato di dire illustrando i suoi grandi maestri del passato, gli scrittori del fantastico, del bizzarro e a fianco di Gogol, da lui meravigliosamente tradotto, dovrei anche mettere naturalmente l'americano Edgar Allan Poe, il grande tedesco romantico Ernst Hoffman, da lui adorati e in parte anche qua e là in antologie tradotti per singoli campioni, nonostante la tensione di questi maestri al grottesco, all'inverosimile, all'innaturale, al fantastico, al bizzarro, tutto quello che sotto cielo e sotto sole accade non è di per sé riconducibile a queste categorie. Tutto semmai è molto più normale anche nella apparente normalità e occorre avere pietà nel senso proprio che la parola ha nell'antico lessico cristiano, penso all'uso della parola pietas in San Paolo, nelle lettere di quel gigante della letteratura cristiana antica che è San Paolo, la parola pietas vuol dire proprio comprensione totale, radicale, innocente dell'altro da noi, del nostro simile quotidiano. Questo è un primo punto. Un secondo punto che per Landolfi è cruciale è il seguente, l'esistenza è incodificabile, non la si può interpretare, non possiamo offrirci il privilegio di una interpretazione del vivere che risponda alle normali categorie razionali di cui siamo soliti servirci nella nostra esistenza quotidiana, le categorie di causa ed effetto, le categorie del prima e del dopo. L'esistenza è alla luce della incomprensibilità. Uno scrittore della generazione decisamente successiva a quella di Landolfi, uno dei capifila della neoavanguardia italiana, il cosiddetto gruppo 63, a far conto dall'anno in cui questo gruppo a Palermo si costituì, Edoardo Sanguinetti, grandissimo ammiratore di Landolfi, a cui ha dedicato notazioni critiche di grande vivezza e di sorprendente originalità, sostiene che il motore di tutto l'universo narrativo di Landolfi è il principio di non giustificazione. Il fatto che non c'è nulla in quello che ci accade o che ci potrebbe accadere che sia di per sé giustificabile con gli strumenti di cui noi, poveri esseri umani, disponiamo. Dobbiamo accettare quello che la vita imperscrutabile ci scaraventa addosso, dal momento che gli intrecci dei romanzi di Landolfi, anche quelli più marcatamente autobiografici, e questa sarà, come dire, la seconda fase di questo scrittore scomparso a Roma nel 1979, è proprio alla luce di una sorta di perenne scommessa col destino. Tra parentesi, Landolfi non ama usare questo termine, destino, peraltro corretto, ma usa sempre la parola caso, che è la parola che nel corrispettivo russo usa Gogol e che è la parola che usano tutti i grandi scrittori cosiddetti fantastici, uno per tutti il grande argentino, amatissimo, tra l'altro anche egli, da Landolfi, Orge Luis Borges, che dell'imprevedibile, della vita come labirinto e come tutti i labirinti indecifrabile, ha fatto, come dire, la matrice di gran parte della sua produzione di narratore. Un altro grande ammiratore di Landolfi, e mi avvio a concludere, è uno scrittore che tutti conoscete, che credo tutti amate e che risponde al nome di Italo Calvino. Calvino, che purebbe sporadici incontri, molto radi e se ne rammarica a più riprese con Landolfi per i motivi che abbiamo detto in apertura della sua scontrosità proverbiale, passò due anni della propria esistenza di scrittore a rileggere tutti i racconti di Landolfi dopo all'indomani della sua morte, e lì Calvino non poteva prevedere che di lì a un paio d'anni sarebbe precocemente mancato anche lui nel 1985, e formulò la più ampia antologia di racconti di Landolfi di cui possiamo disporre. Oltre 400 pagine ospitate, tra l'altro lo segnalo per vostra informazione, nella ben nota collana Bur di Rizzoli. Ebbene, Calvino disse, la grandezza di Landolfi, narratore, una grandezza a cui tutti noi vorremmo avvicinarsi, sta nel fatto che ogni volta egli mette il lettore in condizioni di scommettere su quando sta avvenendo nelle sue narrazioni. Se volete avere informazioni di più su Tommaso Landolfi, uno scrittore tutto da riscoprire, e sulle sue opere, rivolgetevi come sempre al sito internet di Nettuno.